Storia di Iqbal, capitolo 12 Esan Khan era proprio come lo aveva descritto Iqbal, vedendolo quel giorno sulla piazza del mercato. Un uomo alto, non robusto, ma che riusciva a dare un'impressione di forza e di determinazione. Aveva capelli e barba neri e ben curati e vestiva sempre di un bianco immacolato. Da anni ormai aveva dedicato la sua vita a liberare i bambini schiavi. Era stato minacciato, picchiato, incarcerato e ogni volta aveva ricominciato con ancora più entusiasmo e caparbietà. Era testardo, questo sì, e soprattutto aveva una fede incrollabile nelle sue idee e nella sua missione. Non avevamo mai conosciuto un adulto come lui. I nostri genitori erano stanchi e rassegnati. Vivevano come avevano vissuto i loro padri e i padri dei loro padri e credevano che le cose sarebbero sempre andate così e che non si potesse fare nulla per cambiarle. Il raccolto lo avrebbe preso il padrone, il bufalo lo avrebbe preso la malattia e gli usurai avrebbero preso la loro vita e quella dei loro figli. È sempre stato così, dicevano. Anch'io, prima di conoscerlo, la pensavo in questo modo e anch'io credevo che rimanere incatenati a un telaio, a intrecciare fili, facesse parte dell'ordine naturale delle cose o comunque di quelle sventure della vita che non si possono evitare. Esan Khan mi ha aperto gli occhi e anche se non capivo tutto quello che diceva, ero troppo piccola e ignorante allora, molte cose me le ricordo ancora adesso. Esan Khan divenne per alcuni di noi un secondo padre, anche se, devo dirlo, non fece mai nulla per sottrarci alle nostre famiglie di origine. Soprattutto divenne un nuovo padre per Iqbal. Era inevitabile, credo. Iqbal era come lui, cocciuto, incosciente e convinto che il mondo si potesse cambiare. Quando Esan Khan e altri due uomini del fronte per la liberazione dal lavoro minorile arrivarono alla casa di Hussein, capimmo subito che niente lo avrebbe fermato. Aveva portato con sé un poliziotto, grasso come quelli della volta precedente, ma con la divisa in ordine e tutta una serie di segni sulle maniche. «È un ufficiale», spiegò qualcuno. E poi un uomo alto e magro, dall'aria cupa e severa, che disse di essere un magistrato. E poi Iqbal, con gli occhi scintillanti, che saltellava e ci faceva grandi segni con le braccia. «C'è l'ha fatta!» gridammo. «Questa volta ci ha riuscito!» Hussein minacciò, discusse, supplicò, si tormentò le mani unte, fece intravedere con aria indifferente il rotolo di banconote che portava nella cintura. Non servì a niente. Iqbal li guidò nel laboratorio. «Guardi questi bambini», disse Zankan al magistrato. «Guardi come sono magri! Guardi le loro mani, piene di tagli e di bolle, e le catene ai piedi!» Poi attraversarono il cortile, scesero giù nella tomba e ne riemersero, sorreggendo Salman e Mohamad, che con gli occhi chiusi per la luce e barcollando, riuscirono ugualmente a fare i buffoni e a lanciare alte grida di vittoria. Il poliziotto portò via Hussein, la padrona si chiuse in casa a singhiozzare. ci tolsero le catene, spalancarono la porta, ci dissero «Siete liberi! Potete andare!» Uscimmo tutti insieme, timorosi, ci affacciamo sul portone che dava in strada, guardammo da una parte e dall'altra. Si era radunata una piccola folla di curiosi. Qualcuno gridava. Rientrammo, con aria smarrita. «Non sappiamo dove andare!» disse infine qualcuno. Ho ben presente la sensazione di quel momento. Ero smarrita. Mi ricordavo le conversazioni notturne con Iqbal e gli altri, tutte le volte che avevamo detto «Quando saremo liberi?» e tutti i progetti che avevamo fatto e adesso che il momento era venuto avevo paura. Iqbal ci abbracciò uno per uno. «Portiamoli con noi», disse Aizan Khan, alla sede del fronte. Ci caricarono su due automobili a grappoli. Mentre ci allontanavamo, riuscì per un attimo a sbirciare dall'unotto posteriore. Vidi la casa di Hussein, il laboratorio, il cortile con il pozzo, allontanarsi lentamente nella polvere della strada. Era là che avevo trascorso gli ultimi anni della mia vita. Avevo quasi l'impressione di non aver mai avuto un'altra casa. Istintivamente cercai Iqbal, che era schiacciato contro di me. «Dici che la vedremo ancora?» gli chiesi. «Mai più!» rispose lui, sicuro. Dopo una curva, la fabbrica di tappeti di Hussein scomparve. L'unica cosa che ricordavo con affetto era la finestrella del bagno, che per tanto tempo aveva tenuto viva la mia speranza. La sede del fronte per la liberazione dal lavoro minorile era una vecchia casa del periodo coloniale, con le pareti scrostate di un bel rosa antico e un piccolo giardino chiuso da un'alta cancellata che si affacciava su una strada stretta e trafficata proprio dietro al mercato. Era un edificio a due piani che, nonostante l'età e il disordine, mi sembrò subito bello e confortevole. Dava un'idea di casa, di calore e di protezione. Al pian terreno c'era uno stanzone in gombro di tavoli, sedie zoppicanti, pacchi di giornali, libri e volantini accatastati ovunque, cartelli, striscioni, tre cani randagi, due ventilatori a pale che cercavano inutilmente di smuovere l'aria impregnata di fumo, telefoni che squillavano in continuazione e uomini in maniche di camicia che urlavano, si agitavano e che al nostro passaggio si zittirono di colpo e poi si misero ad applaudire. Noi procedevamo in fila indiana, gli occhi sgranati e con la voglia di diventare ancora più piccoli per l'imbarazzo. «Questa è la sede del fronte», spiegò Iqbal, «e sono tutti amici, non dovete avere paura». «Ma perché applaudono?» «Applaudono noi?» «Noi?» Al piano superiore, invece, c'erano tante stanze, tra cui un'enorme cucina da cui arrivavano profumi irresistibili e un posticino per i bisogni dalle dimensioni di una piazza, tutto pulito e con una gigantesca vasca che chissà a cosa serviva. C'erano anche tre donne che appena ci videro corsero ad abbracciarci e ci toccarono dappertutto parlando ininterrottamente tra di loro. «Guarda queste povere creature, come sono magri! E le mani, guardategli le mani! E quei segni sulle caviglie, guarda che piaghe! E sono pieni di pidocchi!» Prima di renderci conto di cosa stava succedendo, imparammo l'uso della grande vasca. Venne riempita di acqua bollente e uno alla volta, a tradimento, nonostante le proteste, venimmo presi, immersi, lavati, lustrati, strigliati, spidocchiati. Ci diedero degli abiti puliti, ci ingozzarono di cibo, ci prepararono dei giacigli di fortuna nelle camere vicine. Mentre scendeva la sera, per la prima volta in vita mia, mi godevo la pancia piena, l'odore del pulito, il conforto delle lenzuola. Dalla strada sottostante, dove sembrava che la vita non si fermasse mai, mi giungevano cento rumori diversi, il rombo dei motori, i clacson, il ragliare degli asini, scoppi di voci e di risate, una sirena, suoni misteriosi e debole, debole, il richiamo del muezzin. Non riuscirò mai a prendere sonno, pensai, mi attormentai di schianto. Il mattino seguente, mi svegliai all'alba, come al solito, mi guardai attorno senza riuscire a capire dove mi trovavo. Per prima cosa pensai, devo correre al telaio, sono in ritardo, il padrone mi punirà. Mi alzai e mi vestì in fretta e furia. Uscì nel corridoio. La grande casa era deserta e silenziosa. Sbirciai al piano di sotto. Niente telai, niente padrone, niente lavoro. Mi misi a piangere, seduta sulle scale. Non so perché. Non avevo mai pianto in tutti quegli anni. Non avevo pianto quando mi sentivo sola e sperduta, prigioniera nel laboratorio di Usain. Non avevo pianto quando le mani mi sanguinavano, dopo una giornata di lavoro. Non avevo pianto quando temevo che Iqbal morisse giù nella tomba. Ma in quel momento non riuscivo a trattenere i singhiozzi. Una delle donne che avevo conosciuto il giorno prima uscì dalla cucina dove stava rimestando qualcosa di buono in un pentolone e mi prese tra le braccia. Non avere paura, piccola, mi disse. È tutto finito. Ma io non piangevo per la paura. Era qualcos'altro. Un po' alla volta si svegliarono tutti. A giudicare dalle facce stralunate non stavano molto meglio di me. Facemmo colazione. Ci sparpagliamo tra lo stanzione al pian terreno e il giardino. Non sapevamo cosa fare. La donna che scoprimmo era la moglie di Esan Khan ci disse giocate bambini. Ci dividemmo in gruppetti a disagio. Non eravamo abituati. Da anni non giocavamo più e non sapevamo come fare. Arrivò Esan Khan sorridente e vestito di bianco come al solito. Ci radunò attorno a sé e ci disse che ognuno doveva dare il nome del suo villaggio. Il fronte avrebbe provveduto a rintracciare le nostre famiglie e a riportarci a casa. Potrete riabbracciare i vostri genitori ci disse. La maggior parte di noi urlarono dalla gioia e gli si affollarono intorno gridando i nomi di località strane e sconosciute. Ma alcuni rimasero in disparte. Karim grande e goffo che borbottava io non ho famiglia dove andrò? La piccola Maria venne a rifugiarsi tra le mie braccia e mi sussurrò all'orecchio con quella sua voce ancora incerta e rugginosa io ho paura che mio padre sia morto io ho solo voi tu dove andrai Fatima? Già cosa avrei fatto? Avevo solo un vago ricordo di mia madre qualche immagine sbiadita di una schiera di fratelli non ricordavo più i loro nomi non ero sicura di ricordare quale fosse il mio villaggio erano quattro capanne in mezzo ai campi da qualche parte certe volte pensavo addirittura che non fossero mai esistiti Iqbal mi venne accanto tu te ne andrai vero? gli chiesi mi ricordavo della sua ostinazione nel tenersi a mente anche i più piccoli particolari della sua vita in famiglia lui girò il viso come se volesse evitare di guardarmi in faccia sì borbottò immagino di sì vorrai riabbracciare i tuoi genitori certo borbottò di nuovo e non sei felice? rimase un attimo in silenzio non lo so disse infine questa era una cosa che non capivo vedi mi spiegò parlando lentamente io ho voglia di rivedere la mia famiglia da tanto tempo ho voglia di rivedere mia madre e mio padre ma non voglio fare la loro vita hai paura che ti prendano di nuovo chiesi? non è questo disse lui mio padre come il tuo non mi ha venduto perché è cattivo per loro è stato un grande dolore ma non potevano fare altrimenti no non è questo è che io voglio fare altro e che cosa? i suoi occhi corsero a cercare Zankan ancora non lo so mormorò restammo tutti in silenzio avviliti poi Iqbal prese per mano me e Maria andiamo esclamò dove? usciamo non dobbiamo essere tristi uscire? chiedemmo ma si può? certo che si può siamo liberi e cosa vuoi fare? chiedemmo in coro lui prese un'aria misteriosa e Zankan mi ha fatto un regalo e io ti ho fatto una promessa fuori era tutto nuovo strano e rumoroso non la finivamo più di guardarci in giro c'erano il sole il vento e gli odori ci arrampicamo su per la collina che domina la città ci lasciamo alle spalle le ultime case arrivamo dove c'erano solo i sassi e l'erba e il calore del mezzogiorno la città in basso era avvolta in una nube di foschia ma dove stavamo noi tutto era nitido e pulito e trasparente non guardate ordinò Iqbal ci coprimmo gli occhi con le mani ma mi accorsi benissimo che Maria spiava tra le dita e allora lo feci anch'io Iqbal si tolse un involto dalla camicia spiegò sull'erba qualcosa di bianco e colorato srotolò una matassa di filo cominciò a correre e quando ci urlò ora potete l'aquilone era già alto nel cielo e saltava con il vento e lo facemmo salire fino alle nuvole e anche più su ce lo passammo di mano in mano per ore fino a quando una ventata di traverso non spezzò al filo e lo vedemmo inabissarsi nell'azzurro puntando verso il sole eravamo accaldati e col fiatone ne costruiremo un altro giurammo scendendo il pendio diretti a casa nel pomeriggio inoltrato Iqbal ci disse ho deciso io rimango con Esan Khan e voi resterete con me grazie a tutti grazie a tutti